Ice, partiti! Tra più veloci in avvio ci sono Justified Applaus, Doc Red, all'interno anche Ittyar Vissaiore, seconda linea per Eternity Boy, a largo di tutti invece Castelletto Dragonino nel cuore del gruppo con al suo fianco Donna Ice, poi all'interno di tutti invece avanza Indian President. Doc Red che nel frattempo è inerso col chiotto giallo, ha preso un paio di ringgessi di margine sulla coppia fermata adesso da Justified Applaus in blu e bianco con le mani col chiotto a scacchi Eternity Boy, c'è ancora più a suo interno Ittyar Vissaiore in bianco e rosso. A largo di tutti viaggio invece Dragonino, all'interno di tutti viaggio invece Indian President. Qui dietro Castelletto, Nola Ice, puntolo triste, ultimo a Riena Fair. Indian President nel frattempo si fa notare che l'Ittyar Vissaiore la sua volta era passato con Ittyar Vissaiore, Indian President e il 400 prendono vantaggio. E' rimasto di Doc Red, a largo prova Dragonino all'interno recupera invece Riena Fair. Indian President sotto la minaccia di Ittyar Vissaiore all'interno di tutti prova a recuperare Riena Fair, gli altri sono qui dietro. Ittyar Vissaiore, Indian President in lotta aperta, si aggiunge anche Riena Fair che scatta lungo la corda, Riena Fair che ne ha battuti migliori e viene a vincere su Indian President, Ittyar Vissaiore, gli altri staccati che ha pregetto ancora da Doc Red. L'ottimo finale per Riena Fair, il signor Parry in sella, per il signor Parry Colori, il signor Parry Colori, il signor Parry Colori, le Stingor Parry,